Le mille spine della sanità pubblica. Se puoi pagarti dei servizi li hai subito, altrimenti sei abbandonato al tuo triste destino. Le lunghe liste di attesa della sanità pubblica spesso scoraggiano e sempre più spesso i cittadini si rivolgono altrove, ma non è giusto. Certo, chi può permetterselo, sia chiaro. Oggi vi raccontiamo la storia di una nostra telespettatrice. In primavera la donna aquilana ha un ictus. Dopo una lunga degenza passata da rianimazione, neurologia e riabilitazione all'Aquila, a fine giugno torna a casa con la prescrizione di riabilitazione motoria e logopedia. Ma qui sorge il problema. I logopedisti all'ospedale dell'Aquila sono pochi e non riescono a soddisfare tutte le richieste, le risposte tutte negative. Allora perché, ci chiediamo, viene prescritta dall'ospedale la logopedia, se poi già si sa che il loco non si potrà fare, a meno che si possano attendere anni per avere un appuntamento seguendo le liste di attesa? Logopedia a pagamento, questa la soluzione e passa la paura, 35 euro a seduta. Logopedia, chiariamolo bene, assolutamente necessaria, in quanto l'ictus ha fortemente danneggiato le corde vocali alla signora e ogni tentativo di deglutizione provoca soffocamento. Le risposte date al marito sulle liste d'attesa? Un problema tutto italiano. Ovviamente nessuna polemica rispetto agli operatori, sempre solerti e gentilissimi, ma è il sistema che non va. Una battaglia che ci sentiamo di sostenere, anche perché, annunciano questi telespettatori, non finirà così.